L'hanno trovato alla stazione di Monaco di Baviera da solo a piedi mentre stava aspettando un treno al binario 1415. Si è conclusa così la fuga dell'ultimo componente della banda criminale dedita allo spaccio di droga scoperta il mese scorso dai carabinieri nel Blizzalevane dove si trovava il quartier generale dell'attività illecita. Il cinquantenne napoletano era infatti l'ultimo uomo che mancava l'appello e con il suo arresto adesso si conclude la maxi operazione antidroga denominata ricavo condotta dai carabinieri di San Giovanni Valdarno. I militari infatti erano riusciti ad interrompere l'attività di un sodalizio di soggetti gravemente indiziati a vario titolo per i reati di concorso continuato ed aggravato in detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti cocaina e marihuana. Una rete criminale che per l'approvvigionamento di stupefacenti si avvaleva di canali per lo più di nazionalità albanese radicati in varie località della Toscana. Le indagini erano partite due anni fa e lo scorso 7 ottobre avevano portato ad 11 arresti in flagranza di reato. Il cinquantenne pregiudicato aveva però lasciato l'Italia proprio pochi giorni prima del blitz in un casolare della campagna della frazione di Levane a punto ricavo. I carabinieri per rintracciarlo avevano così battuto tutte le piste in costante collegamento con i colleghi dell'Interpol, pedinamenti dei familiari, localizzazione dei telefoni ed analisi approfondita dei social network fino a stringere sempre più il cerchio attorno all'uomo. Il malvivente è stato così identificato e sono già state avviate le procedure per la sua estradizione.